Direttamente dalla Cameretta Magica, oggi 25 di novembre, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video faremo un video commemorativo, perché proprio oggi, 25 di novembre, sono passati 15 anni dalla scomparsa di Roberto del Giudice. Allora, prima che parli di Roberto del Giudice, vi avviso nell'immediato che qui si tratta sempre di un video commemorativo e non voglio commenti del genere di quando fare nuovi video, oppure salutami al prossimo video. Ci siamo capiti? Ok. Bene, torniamo a Roberto del Giudice. Roberto del Giudice è stato anche lui un grande doppiatore italiano ed è stato la voce storica di Lupin. nelle vecchie serie animate di Lupin e gran parte dei film d'animazione di Lupin, che tra l'altro doppiò Lupin fino alla morte. E comunque, Roberto del Giudice non solo ha doppiato Lupin, ma è stato pure voce di Dean Butler nella casa nella prateria, nel ruolo di Almanzo Wilder. Poi è stata pure la voce della porcellina Miss Piggy del Muppet Show, che comunque, inizialmente, la porcellina Miss Piggy era stata doppiata da Isa Di Marzio. Però, quando poi arrivò un telegramma dall'America, arrivò a questa imposizione che doveva essere doppiata da un maschio e, di fatti, si scelse Roberto del Giudice. Poi è stato pure la voce di Fiocco di Neve in Stuart Little. Poi è stata pure la voce di Fradine Don nel cartone animato di Marcellino Panevino. Ha doppiato pure Alan in Sammy il ragazzo del West, ma anche altri personaggi. Mark Wellington in Hello Sandy Bell, primo doppiaggio. Poi è stato voce di Larry Lapp, in C'era una volta in America, seconda edizione italiana. Poi ha doppiato pure Peter Lorne, L'uomo che sapeva troppo, però, ovviamente, versione ridoppiaggio. Poi ha doppiato pure Zazu nei primi film del Re Leone, della Disney. Poi doppiò pure La Morte nel cartone animato dei Griffin. Poi doppiò Amon e Ayashi in Ufo Robo Goldrake. Poi doppiò anche... Aspetta, ora vi faccio vedere. Doppiò pure Benny il Tazzi in Chi ha incastrato Roger Rabbit. Doppiò anche Porky Pig in Superbanni in Orbita. Primo doppiaggio, che Porky Pig era uno dei personaggi degli Unitunes. Poi doppiò anche... Tenshin... Tenshin Han nei film di animazione di Dragon Ball edizione di NIT. Poi doppiò anche Dennis Lawson in Guerre Stellari e anche Il ritorno dello Iedi. Poi doppiò pure... Helmut Berger in Il padrino parte 3, ma anche nel film Il giardino dei Finzi con Tony. Poi... Ah, nel 2004 Parice vette pure... Si aggiudicò nella terza edizione del 2004 si aggiudicò la targa Franco-Latini nelle voce di Cartugna. Poi... Doppio anche... Assi Lupo de Lupis, che è il Lupo de Lupis è uno dei cartoni dell'Anna e Barbera. Doppiò pure il Conte Dracula in Carletto e il Principe dei Mostri. Roberto Sedigno, o meglio Roberto Hongo in... Nelle prime tre serie di Holly e Benji. Ora vi faccio vedere una sua immagine. Eccolo qua. Questa è una sua immagine. Nell'84 aveva i capelli neri, barba un po' sale e pepe. Poi... E comunque vi faccio anche vedere una delle ultime immagini. Eccolo qui. Col volto... Viso molto simpatico. Molto... Sorridente. Con sempre barba. E corporatura pure robusta. Assi poi doppiò anche Frodo Baggins nel Signore degli Anelli, il film d'animazione del 78. E poi... Che altro doppiò? Ah sì, doppiò pure... Doppiò perfino Michael Landon. Che Michael Landon era quello che interpretava Shard Singles nella Casa e nella Prateria. Però mi sa che l'aveva doppiato in bonanza Michael Landon, Roberto del Giudice. E comunque era pure la voce narrante nel cartone animato di Tom e Jerry. Poi... Doppiò pure Zazu in Timone e Pumba. Poi altro doppiò... Ah, Luis nell'anime giapponese Charlotte, sempre prima edizione. Ah, e doppiò pure il Cyborg 006 nella serie animata i Cyborg 009. E sarò pure direttore del doppiaggio. Che dire... Purtroppo Roberto del Giudice, ahimè, ci ha lasciati abbastanza presto. Aveva solo 67 anni quando morì. E comunque... Che dire... Ah, comunque vi dico pure dove riposa, perché ho anche le indicazioni. Riposa al cimitero Flaminio, che sarebbe il cimitero di prima porta. Precisamente nel gruppo 1, Pian Terreno, Cappella 28, Fila 1, Loculo numero 9. Vi do anche le indicazioni, perché almeno così chi vuole andare a rendere omaggio, almeno ve lo date io. E comunque ci tengo anche a dirvi che quando sono stato al cimitero Flaminio la prima volta a giugno 2021, sono pure andato a trovarlo, sono andato anche da lui. E sul mio canale è pure disponibile il video della sua tomba. Basta che andate su cimitero Flaminio e lo trovate. Basta che andate nella playlist cimitero Flaminio e lo trovate. Oppure basta solo che selezionate, che scriviate Roberto del Giudice tomba e lo trovate. Che vi invito pure a vederlo il video della sua tomba. Che dire... E niente, ci vediamo alla prossima.